A questo punto passo la parola al dottor Paolo Mazzanti Nazca per il progetto Musar. Bene, buongiorno a tutti. Ovviamente voglio iniziare ringraziando l'ASI dell'invito e ovviamente anche di averci dato l'opportunità di portare avanti questo progetto. Una notazione rapida su questo che ritengo particolarmente importante. Quando uscì la graduatoria di questo progetto, noi ovviamente la scorremmo e vedendo che eravamo tra i selezionati, eravamo molto contenti. Un elemento di contentezza ulteriore fu legato al fatto che tra questa lunga, nemmeno tanto, ma insomma lista, eravamo forse l'unica azienda come proponente di un progetto di questo tipo. Gli altri erano gentri di ricerca. E devo dire che questo fu per noi un ulteriore elemento di soddisfazione e anche di orgoglio. Ovviamente però probabilmente questo aveva anche una motivazione. La motivazione è legata un po' anche a chi è Nazca e cosa siamo. Quindi mi prendo un minuto perché è utile per inquadrare un po' meglio anche il progetto e la filosofia che ci sta dietro. Io innanzitutto sono docente di terrierelevamento e rischi geologici proprio alla sapienza. E tra le altre cose, un po' di anni fa, insieme a dei colleghi, abbiamo fondato questa spin-off che nel frattempo poi, a distanza di dieci anni, è diventata un'azienda di una certa dimensione, come potete vedere qua, ma che ha un legame fortissimo con l'università, un legame virtuoso. Devo dire uno di quei legami che non sempre in Italia si riesce a realizzare, ma che secondo me quando si riesce a realizzare ha solo di positivo, appunto legame tra mondo e mondo della ricerca e mondo dell'industria. Con questa premessa, appunto, una brevissima descrizione di Nazca e di quello che fa. Cerca di portare dati telerilevati al servizio degli operatori, quindi veramente il downstream. E tutto questo parte dal fatto che a partire dal sottoscritto che svolgo ormai da un po' di anni il ruolo di amministratore delegato di questa azienda, io sono un geologo, quindi il mio background non è di qualcuno che ha studiato come analizzare segnali elettromagnetici, ma è di qualcuno al quale è stato insegnato come affrontare un problema di instabilità del territorio. È chiaro che poi quando studi questo e ti rendi conto che arrivano degli strumenti così potenti come quelli che l'asset satellitare ci mette a disposizione, non si possono che illuminare gli occhi e cercare di capire come sfruttare tutto questo. Quando arriva un progetto come quello del SAR multifrequenza bandito da ASI che ci permette effettivamente di sperimentare come questi prodotti nuovi possano essere resi utili e fruibili a utilizzatori terzi e quindi a tutti noi come cittadini in modo più o meno diretto o indiretto non possiamo che essere felici. Detto questo, quali erano gli obiettivi? Allora sostanzialmente gli obiettivi era quello di estendere lo sfruttamento dei dati di osservazione della Terra nell'ambito dei rischi naturali, come è già stato detto. Con particolare attenzione però a un tema, perché noi affrontiamo i rischi naturali? I rischi naturali diventano tali, non in quanto c'è una frana, un terremoto, eccetera, ma diventano rischi e non solo pericoli, questa è la definizione tecnica, nel momento in cui c'è un asset, qualunque sia l'asset, l'asset può essere una persona, può essere un parcheggio, una casa, può essere un'infrastruttura strategica importante, un ponte strategico per collegare due parti di una città, ovviamente qualsiasi riferimento è puramente casuale. In quest'ottica questo è l'obiettivo importante, perché con questi strumenti noi possiamo dare un contributo importante alla vita di tutti i giorni nostra, perché mi piacque molto un po' di tempo fa un intervento di un soggetto dell'amministratore delegato di Acea, che è il gestore multiservizi della città di Roma, che noi abbiamo lavorato anche con loro cercando di portargli questo tipo di tecnologie, e ciò che disse è che noi ci veniamo chiamati in causa tutte le volte che c'è un disservizio, una buca che si forma nella strada o quando non arriva l'acqua. Mai però viene visto tutto ciò che facciamo per evitare che l'acqua arrivi, quello lo diamo per scontato, in realtà dietro a tutto quello che noi diamo per scontato c'è del lavoro, e credo che tutto questo di cui stiamo parlando possa dare un lavoro importante. Bene, inquadrato e per non prendere troppo tempo il tema generale, vado avanti. Geohazard, ovvero pericoli naturali e infrastrutture. Chiaramente i geohazard ci sono, quelli che sono gli effetti un po' di una mutazione, in un certo qual modo del clima che stiamo vedendo, soprattutto delle precipitazioni con regimi un po' diversi, sta incrementando questi processi. Al tempo stesso nei paesi sviluppati le infrastrutture stanno invecchiando. Questi sono due dati, senza entrare nel merito delle cause, ma sono due dati abbastanza oggettivi di cui dobbiamo prendere coscienza. Tanto per darvi un'idea, ho fatto qualche tempo fa una ricerca indipendente su quelli che erano i costi e gli investimenti per le infrastrutture, che variavano da dieci anni fa, erano prevalentemente realizziamo cose nuove, anche in Italia. Dopodiché negli ultimi anni ci preoccupiamo di manutenere quelle che esistono, perché tutto sommato non abbiamo una cattiva infrastruttura nel nostro paese, sia stradale, sia ferroviaria o anche aerea. Però, se non la manteniamo, rischia di non essere più così utilizzabile. Ovviamente, per fare tutto questo, per mantenerla bene, è importante fare quella che si chiama manutenzione predittiva, che devo dire in Italia è un concetto che stenta a entrare al regime, proprio in generale il concetto di manutenzione, ne abbiamo un po' di difficoltà. E questo porta a un asset management, cioè a una gestione degli asset. Come lo si può fare? Attraverso i dati di Earth Observation. Nell'ambito di questo progetto MUSAR, venendo ad aspetti anche più tecnici, noi quello che vogliamo fare è effettivamente integrare innanzitutto tecnologie che già esistono. Non abbiamo deciso di inventarci niente di particolarmente nuovo, un algoritmo iper sofisticato. In realtà, una volta qualcuno mi disse, è già stato inventato tutto. Forse non è vero, però in realtà esiste già tanto che si può prendere e sfruttare in un modo che magari fino a quel momento non è stato fatto. E allora, mettendo insieme tutti questi dati e tutti questi elementi che abbiamo, si può arrivare a trasferirlo in informazione. Trasferire in informazione può portare anche, per renderlo più economico, perché poi parliamoci chiaramente, qui il problema è sempre anche l'aspetto economico. Se una cosa costa troppo, non la uso. Poi magari scopriamo che se l'avessi usata, anche se costava troppo, mi è costato molto di più gli effetti negativi di non averla usata. Però l'aspetto economico è sempre una barriera. E allora rendere determinati processi automatizzabili sicuramente ha un valore. È chiaro che una delle cose più complicate, soprattutto dal lato nostro, è proprio quello di rendere automatizzabile un qualcosa che deriva dalla conoscenza acquisita in anni di studio da professionisti. Nella nostra azienda ci sono numerosi geologi, prevalentemente geologi, ingegneri civili, persone che quindi conoscono il territorio e le infrastrutture, che quindi si devono mettere lì, guardare questi dati, numeri, colori, e farli diventare informazione. Quindi cosa significa? Ma soprattutto suggerimento, indicazione per il gestore, per esempio, di un asset. Per fare questo è chiaro che c'è tanto costo dietro, tanto lavoro. Se si riesce a automatizzare una parte di questo, anche se non sarà la soluzione definitiva, ma intermedia, ovviamente l'obiettivo è importante. Abbiamo deciso di prendere un'area di studio, un'area di studio che abbiamo selezionato, dove ci fossero tante tipologie di processi in atto, sia naturali che antropoindotti, e su questi stiamo un po' sperimentando, combinando, sì, dati satellitari, ma in realtà abbiamo una quantità di informazioni, come ieri ci è stato mostrato in un'altra sessione da alcuni colleghi. Abbiamo tanti dati che vengono dai social media, dagli open data, che veramente sono una fonte importante, talvolta però eterogenei, non utilizzati, ognuno per la propria parrocchietta tenuti e non considerati, quando invece uniti possono avere un significato veramente importante, e concorrere ad avere una caratterizzazione più evoluta. Queste sono un po' di raccolte che abbiamo fatto, e poi veniamo alla parte più importante di interesse di questo evento. Bene, ad oggi in quest'area sono a disposizione dei set di dati, ovviamente più o meno lunghi, di tre satelliti, tre commissioni satellitari, che sono in tre bande diverse, quindi in tre frequenze diverse, banda X, banda C e banda L, le quali uno, Cosmos, SkyMed, ne abbiamo sentito parlare lungamente, Saoco, ma anche Sentinel, pure, è comunque dell'Agenzia Spaziale Europea, quindi possiamo sentirlo nostro, al pari degli altri. Con periodi che vedete un po' diversi, ma tutti con un periodo di sovrapposizione. E qui quello che vi voglio mostrare, invece, è un esempio di multifrequenza, ma anche di multimetodologia di analisi. Se vedete sulla sinistra, è un tipico prodotto di un'analisi cosiddetta persistent scatter, ovvero con scatteratori persistenti, che sono tutte quelle aree che riflettono molto bene e costantemente nel tempo. Che però non sono tutte. In un'area come questa, si parla di una frana di 40 km quadrati nel Colorado, ci sono tutta una serie di aree che proprio per la loro caratteristica intrinseca non riflettono bene, quindi è vuota. Se guardate però in alto, vedete che c'è una mappa di colore, magari meno semplice da comprendere, però che mostra con la banda C un qualcosa, molte variazioni di colore. Sotto vedete, in basso a destra, un'altra mappa, di un altro periodo temporale, che è un banda L in quel caso, che è molto meno disturbata e mostra dei pattern invece ben riconoscibili. Ecco, qui vedete già, combinando tutti questi fattori e portati insieme, si può trarre il vantaggio di una tecnica nota, consolidata e ormai indiscutibile, come la tecnica dei persistent scatter, ma anche di tecniche più banali, dalle quali poi è nato tutto questo, ovvero l'interferometria differenziale classica. Al tempo stesso, non solo l'interferometria, ma ci sono dei metodi di analisi basati per esempio sulla change detection, la digital image correlation, la visual computing, sono tante tecnologie ormai che stanno uscendo, che consentono di dare dati diversi. Vedete a destra, classico dato PS, in un certo settore limitato, vedo dei dati, ma tutto intorno niente, al contrario, vedo nell'immagine a sinistra, un prodotto di spostamento di una certa dimensione ottenuto con tecniche di fotomonitoraggio. Bene, combinare tutto questo, dal mio punto di vista, è un po' l'uovo di Colombo, cioè non è niente di fantascientifico, è semplicemente prendere quello che esiste, metterlo a fattore comune. Il punto però, e qui mi approccio alla conclusione, è ma queste mappe, questi punti colorati, questi colori, ma è veramente ciò che serve? E dal mio punto di vista, no, scusate, posso sembrare come dicevo, allora che aveva detto fino adesso, no, ho detto che è un passaggio fondamentale, perché io mi trovo con alcuni miei studenti, che dopo che gli faccio un corso di terrilevamento, mi dicono, professore, ma allora, allora scusate, il nostro studio non servirà più a niente, se possono fare tutti questi dati, dico, no, fermi, è proprio il contrario, nel momento in cui noi avremo tanti dati, avremo tanta necessità di persone che lavoreranno per farli diventare, appunto, informazione, informazione actionable, come direbbero gli inglesi, cioè utilizzabile, praticabile, e allora qui, molto più semplicemente, una mappa che mostra, capibile veramente da tutti, zone che si muovono di ordine millimetrico, centimetrico, decimetrico, ecco, qui forse è più semplice, guarda, questa zona mi si muove di qualche centimetro, questa zona di qualche millimetro, beh, questo è già un prodotto sintetico, che deriva da tutte quelle cose viste prima, che però, da un certo punto di vista, possono anche essere trasparenti per l'utente finale, questo è l'obiettivo, e più lo riusciamo a fare in modo automatico, e meglio, chiaramente, sarebbe. Poi, certo, un operatore, che gestisce un asset stradale, che, più che vedere anche questo, perché, che si muova di più o di meno, può essere, per lui, irrilevante, se non ne capisce le conseguenze, che vede, semplicemente, un prodottino molto semplice, di questo tipo, con, attenzione, sta succedendo qualcosa, beh, probabilmente, è ciò verso il quale, tutti noi dobbiamo tendere, per rendere veramente, questo asset spaziale, un asset terrestre, fatemi usare questo modo di dire, farlo scendere a terra, scendere con i piedi per terra, ma non tanto di valore, il valore deve essere altissimo, come abbiamo già visto, ma utilizzabile un po' da chiunque, e con questo, un po' di passaggio c'è da fare, perché, se noi vediamo la prima linea, quella in bianco, poi dopo prevede, tutta un altro po' di lavoro, che è quello che vedete successivamente, sul quale stiamo cercando di dare un contributo, anche con questo strumento, che è solo una serie di toolbox, utilizzabili, a questo punto, da tutti, perché finché tutti, non potranno avere accesso agevole, a questi strumenti, diventeranno, rimarranno, un qualcosa di elite, per cui, ieri, in un altro intervento, parlavo di democratizzazione, di questi dati, e secondo me, questa è una cosa, verso la quale, noi dobbiamo assolutamente tendere, e del quale ringrazio Asi, per aver dato, l'opportunità tramite questi progetti, a quel punto, classifico, interpreto, comprendo, e predico, e se predico, ritorno a quello che avevo detto, ovvero, alla capacità, di fare, manutenzione predittiva, unendo a questo punto, la scienza, con la pratica. Grazie mille. Grazie mille.